Parliamo adesso del Giro d'Italia che parte domani con la tappa a cronometro da Morreale a Palermo e che vede Alcamo protagonista con la vera e propria partenza di gruppo della Corsa Rosa. La tappa di Alcamo a Grigento in programma domenica 4 ottobre dalla centralissima Piazza della Repubblica. Tal proposito ascoltiamo il benvenuto al Giro del primo cittadino di Alcamo, Domenico Surdi, che invita tutti ad esporre qualcosa di rosa. Questo è un evento storico, un evento meraviglioso per la nostra città, un'occasione unica. Il Giro d'Italia è uno degli eventi sportivi internazionali più visto, più bello, famoso proprio per promuovere il territorio. Siamo molto molto contenti di poter tingere la città di rosa, quindi invito tutti i cittadini a esporre qualcosa di rosa, soprattutto lungo il percorso che faranno i corritori, ma sarà un tripudio, una festa non solo dello sport, ma appunto anche del territorio. Alcamo è davvero il capologo naturale del Golfo di Castellammà? Sì, ma la nostra centralità ci ha giovato anche in questo caso perché la tappa appunto è l'unica della provincia di Trapani, quindi questo ci rende ancora più responsabili. Abbiamo il compito insieme a tante altre città di esporre le cose più belle che questa parte della Sicilia ha, quindi stiamo lavorando in questo senso. C'è tutta una macchina che lavora per rendere la città accogliente, bella e esporla nel migliore dei modi dinanzi a tutto il mondo.